Buongiorno, sono il direttore marketing di Pietranet. Noi produciamo pavimentazioni ecosostenibili, amiche dell'ambiente, non utilizziamo acqua, costruiamo tutto a secco, anzi l'acqua la recuperiamo perché per noi è una risorsa molto importante. Abbiamo aderito a questa innovativa iniziativa di Social Expo, ci siamo trovati molto bene, abbiamo avuto anche l'occasione di fare una conferenza a cura dell'architetto Chiocchini dove ribadiamo l'importanza dell'oro blu, dell'acqua e quindi siamo contenti di essere qui, i risultati sono stati molto interessanti, complimenti a tutto lo staff, grazie dell'invito a tutti voi.